Adesso è entrato anche lui, è tutto pronto dunque per la partenza. Partiti i cavalli del Duca d'Aosta 2012. Dall'esterno Bedetti che vuole sfondare, l'operazione non gli viene contesa da nessuno, visto che Bono Savie si adegua in scia. Al terzo Durait, poi Azkaban che ha vicino curioso, fa il charge per Claire con Sistori, Mister Wilde e figli fanesi che chiude in ultima posizione. Bedetti batte in strada, vediamo come affronta la curva. L'affronta bene, così come bene l'affrontano tutti, quello un po' meno bene è curioso ma che va tranquillamente poi a riproporsi con gli altri, in un gruppo che in maniera piuttosto allungata affronta la prima curva, mentre Bedetti rimane percorsie più esterne rispetto a Bono Savie che invece curva di dentro. Vedetti che non ha fatto in maniera brillantissima questa piegata. Durait al terzo col cap nero, seguita da Curioso con la giubba gialla e il cap rosso, poi Azkaban con le maniche verdi, il grigio per Claire che ha vicino fall charge, giubba gialla col cap nero, Mister Wilde che in giubba blu col cerchio giallo affianca con Sistori, in bianco azzurro, figli fanesi, il favorito in questo momento è sempre in ultima posizione. Bedetti molto largo, mentre percorsie più interne avanza Bono Savie, i due sono tallonati da Figli Fanesi che vista l'andatura scarsissima in due tempi di galoppo, ha risalito le posizioni e si è portato addirittura al comando. Figli Fanesi dunque il nuovo leader davanti a Bono Savie, Bedetti, Durait, Mister Wilde, con Sistori, Curioso, Fall Charge, Azkaban e Percler. Una volta che ha preso la leadership, Figli Fanesi ha sveltito sensibilmente la cadenza con i cavalli che sono già giunti in piegata, ha preso due lunghezze abbondanti su Bono Savie, Bedetti che rimane a largo, Durait che è quarta, poi Curioso, Azkaban, Percler, Fall Charge con Sistori e Mister Wilde che rimane a largo. Il gruppo compatto alle spalle di Figli Fanesi che affronta la retta da Battistrada e allunga nel senso che mantiene sempre la sua andatura con gli altri che adesso si fanno più sotto però. Durait si butta di dentro, Bedetti rimane sempre a largo, Bono Savie e Azkaban a ridosso, poi Percler, Curioso, Mister Wilde a largo di tutti, ancora in quota Fall Charge mentre con Sistori perde terreno. E ancora Figli Fanesi ma all'interno c'è Durait che insiste insieme ad Azkaban, Bedetti che si prepara in quarta corsia, in quinta corsia Curioso, poi Bono Savie, Percler, Mister Wilde a largo di tutti, Durait che è passato in vantaggio, su Bedetti che ritorna aggressivo, Azkaban tra i cavalli, di fuori a tutti Mister Wilde insieme a Curioso, Durait in fuga, gambe levate, Durait da Bedetti e Mister Wilde, Azkaban, Durait che è ancora davanti, Durait che viene fine in fondo davanti a Bedetti, Mister Wilde e poi ancora al quarto posto Azkaban. Grandissima Durait che viene a vincere alla grande per la scuderia Ippogrifo ai colori, Marsella con Marca in sella per i signori Gonnelli al treni. Grazie a tutti.